Ok, fuck it, I lied. It's drum and bass. What are you gonna do? Allora, iniziamo un nuovo file. Perfetto. Non so i comandi, non so un cazzo. Non so niente di niente, dobbiamo imparare tutto quanto adesso. E saltiamo assolutamente i dialoghi perché non ne voglio sapere proprio. E abbiamo un'idea di quanto registreremo, tipo, ok, sono le 23 e 38. Ok, allora, ti muovi con le frecce. No, il mouse non ti serve. Che marzo. Allora, ti muovi con le frecce. Guarda in su come una coglione. Perché... E spunta un pisallo da una parte, guarda. È la mano. Poi si chiede perché sta guardando verso lo sfondo. Ok, vale. Con z salti. Sì, ma hai premuto quattro tasti. Sto solo a saltare. Con z salti. Per salvare, non annegare in questa cosa. Ok, vale. Per salvare... Cazzo. Levitino... Oh, è difficile, le gente si uscite. Aspettate. Ma hai perso la save, la gata. Hai capito? Guarda verso lo sfondo. Bravissima. Oh. Vuoi salvare? Sì. No. Vedi? Bravissima. Vedi? Perfetto. Adesso devi andare a prendere la Polar Star. Ce la pensi di fare. Come cazzo spaz... Z. Vai sempre con z. Quando non sai qual è il tasto vai di z. Ok. Veda? Salta. Annegliamo. Continua dalla... Oh, non avete idea di quanto sono incasinate io perché sono in condizioni che non avete neanche idea. Oh, saltate. Oh, saltate. Guarda verso lo sfondo. Bravissima. Che cazzo. Ok, sei nella first game. Adesso non farti impalare dalle spine perché ti sciottano. Pietre. Allora, Sara, devi saltare. Oh. Ok. Ok. Allora, no, no. Sei morta. Oh, figo. Allora. E' quello che ti ho fatto salvare. Ok. Vedi che non salta? Sta zoccola di merda, bionda del cazzo. Vai. Mi sono sempre stata sul cazzo le bionde. Tu eri bionda prima, Sara. Ok, ce la puoi fare. Allora, vai piano. Vai piano. Non così piano. Un pochino più veloce a passo spedito, ma piano. Ok. No. Attenta che scivoli. Adesso salta direttamente. Vai a sinistra. Bravissima. Attenta a ti distretti. Sono i pipisalli. Vai dritta. Aspetta. Ok, vai a sinistra. Salta. Vai a prenderti la light capsule. Sara, la light capsule. Ma dov'è? E lei è nato. È per copia. Ma dormivi nella prima parte? Mentre perciò andavamo. Non mi ricordo un cazzo, amore. Guarda che ora è, Chris. Sono le 23 e... 40. E 40? Dai, in tre minuti abbiamo fatto metà della first game. Figo. Ok, vai. Cazzo? Attenta i miei piselli blu. Allora, è la prima volta che gioco. Non so cosa sono i comandi. Nienien. Salta, 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 salta. Fotti, tieni. I kirby di merda. Ok, bravissima. Ok, vai. Bravissima, bravissima. Ok. Grande. Grande, sei forte. Perfetto. Finito l'episodio. Ciao, gente. Ci vediamo qua la star. Sta dormendo in piedi con un cammello. Sei seduta. Lui. Cosa? Lui sta dormendo in piedi con un cammello. Ah, lui. Pensavo in te. Hai ottenuto la stella colare. Dai, Rosanna. E ma? Adesso salta tutto. C'è ancora il Kazuma che parla. Il Kazuma di merda. Il Kazuma. Vai, vai, vai. Una sua trovata. Ah, mi viene il cancro al dito. Ok, vai. Hai la pola star. Fai con X. Oh. Solo che c'è il range di un culo. Un culetto adesso. Del tuo pene. Stai zitta. Devi livellarla. Allora, tecco. Io ti consiglio prima di ammazzare il... No, con X. Brava. Vengolini. Vai, vai. No, non funziona così. Devi andare dentro la piattaforma qua a destra. Salta. Brava. Adesso vai. Sono dei brutti comandi anche. Stai brutti. È vero. No, Sara. Sei fuori. Sai che puoi sparare verso l'alto? Figo! Dai. Anche verso il basso? No. Che cosa sto facendo? Vai, se salta puoi sparare verso il basso. Il basso. Capisci? Brava. Salta. E avanti. Stai iniziando a capirlo. Ok. Ok. Occhio. Aspetta che il più di la lua dai morto. Brava, ammazzalo. No, aspetta. Aspetta. Prima salti. Devo trovarmi in sintonia con i cavalli. Ammazzola. Sì. Killalo subito. Brava. Con i cavalli. Eh, perché intento di saltare con il coso e non ci... Guarda. Ti sciolta se ci finisci, eh. Facile. Brava. Adesso ce n'è un'altra. Salva. Porca pazzana. Salva. Vai subito a salvare. Consiglia. Ok. Ce la vuoi fare? No. Ok, prima... Come hanno detto. Prima rifiuti la vita, poi salva. Aspetta, assi io come fare. Come ti ho detto. Ehi, salva ancora. Eccola. Salva. Salva. Ok. Mi sto rianudando. Salva presso la Polar Star. Figo. Grandi progressi. Adesso che cazzo faccio? Adesso vai avanti. Vai sempre giù. Non di lì. Perché? 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 Sono un danno. Questi qui lasciano la merda. Ammazzali. Ma indietro. Oddio. Le schivate. Le schivate di Sara. Ammazzali tutti. Aspetta, aspetta. Ammazzali tutti. Non sto bene. Ammazzali tutti. Scioltali. Stali a pezzi. Che cazzo vuole sto qua? Dove? Allora, calma. È un cazzo di chi è mio. Mi sta fissando. Vedi che mi sta fissando. Cazzo. Allora, adesso con calma. No, è una porta cattiva. Perché ha gli occhi? È l'unica porta del gioco che ti vuole uccidere. No, gli occhi. Salpi. Gli spari. E poi lo fai ancora. Non dovrebbe avere attacchi, se non sbaglio. Ma perché ha gli occhi rossi? Ma perché è Ballos, in realtà? Salta. Salta. Ok. Adesso farlo ripetutamente. Ehi. Ok. Vai avanti. Ok, pausa dialoghi. Ok. Si fa così. Mentre saltiamo i dialoghi, voleva... Ok. No, vai, vai, fottitene. Vai avanti. Ci sono altri dialoghi. Ok, va bene. Dicevamo. Allora, stiamo registrando questo video con webcam esclusivamente per voi perché vi vogliamo bene. Perché abbiamo fatto un casino boia con... con le live eccetera e quindi ci siamo incassati e io ho mal di testa. Praticamente quello che voleva dire Sara. E adesso ti casserò la testa. Vai avanti. Vai sempre. È morto. No, non è morto ancora. Però comunque parlaci. Ok. No, ma non so se serve veramente parlarci. Scusi. Comunque, cioè tipo adesso... Aspetta, devo fare il dialogo. Scusi. È vivo! Vedi che parla Curly. A volte invece stava zitto. Curly è un zocco. Nuda. Non è nuda. È vestita. Però prima era nuda. Non era nuda. Vi ricordate che era nuda? Volete scrivere nei commenti che era nuda? Vedete che era nuda. Nel... E adesso... Che cazzo faccio? Nella Wind Fortress. Ballo? Infilati nella Save Station. Questa? Sì. Ok. Cazzo, ho sbagliato. Ho sbagliato Mira. Quello che voleva dire Sara. Squigliate. È che noi dovevamo fare un live. L'avevo scritto come annuncio. Mi rifrescio di nuovo la vita. Beh. No. Sei stato tu. Cazzo Ricky, puzzi di me. Ma non è vero. Che zon. Ti ho incrociuto alla sedia. Solo che non ce l'abbiamo fatta perché Google Maps fa schifo. E quindi facciamo il video di te. Esatto. Allora. Yo Bang. Allora. Adesso devi... Cosa? Niente. Cosa? Non c'è niente. Vai di dentro. Allora. Aspetta che mi devo trovare in sintonia con i tasti. Che non ce l'abbia passi qua. Brava. Allora il tuo scopo è battere Balrog. Ce la puoi fare. Ok? Oh cazzo. Posso uccidere il pesce? Sì. Puoi uccidere il pesce. No però muoio. No non muoio. No non muoio. Sì che muoio. Non muoio. Muoio. Non muoio. Ma se stai nella... Fai con vita. Ma se stai nella... Vedi che non salta sta zoccola di merda. Aspetta. Allora. Devi stare fuori dall'acqua e saltare tutto a sinistra. Con la linea di toroso che puoi prendere. Sì sì. Cioè. No devi aspettare. Questa è la parte più difficile del gioco. Prima di mettere un piede nell'acqua. Ecco. Adesso salvi. Tutto a sinistra. No. Prima devi andare a sinistra. Vai dritta. Però forse è vero. Ha ucciso cin fish. Ha ucciso cin fish. Sì ho visto che... Sei fottuta. Sei fottuta. Sei fottuta. Un pelo così dall'acqua. Diventava tutto blu. Sei fottuta la tinta. Gli sta anche lei. Stronza. Dai Saras ma puoi fare. Allora vai. Non capisco un cazzo dei tasti. Non capisco un cazzo dei tasti di merda. Sto gioco. Allora vai a sinistra. Adesso prima di mettere un piede nell'acqua. Salta tutto a sinistra. Ma senza saltare prima di andare. Cioè prima vai a sinistra. Poi salvi. Adesso fai lo stesso. Big up per salvi. Non parlarci. Con guarda è inutile. Buttati direttamente sulle scintille. E guarda verso lo sfondo. Che così prendi l'oggetto. Ti riprendi l'oggetto. Non si annego? Non anneghi. È la canna da pesca. No. È una colla. Una pesca. Adesso ammazzaci in fish. Vai però se no anneghi. Oh che faccia da cazzo che ha fatto? Così è una vita che non lo vedevo prima. Pupurupuruuu. No. Vai. Muaaah. Vai. Perché corre come una puttana? Perché è una puttana. Cazzo non riesco neanche a prendere le porte. Dialoghi mi ti. Ho le cuffie da gamer comunque. Sono mie. Vai star. Questo qua muore sempre. Sì. Che come cazzo? King è inutile. Cioè non è King. E adesso? Adesso l'ho spiegato. Vai a destra. Ti ricordi? Porca Eva. Stavo buttando la cazzo ancora. Nella merda qua. Questa. Si chiama. La Shack. No. Adesso mi uccide. No. Non ti uccide. Non ho neanche livellato la Polar Star. Dai. Ce la puoi fare. Non hai neanche preso la Life Capsule alla merda. Alla Yamashita Farm. Stai tende a che se no ti ha ammazzato Rocco. Vedi? Uccidi là. Tira di un cuore. Troia. Troia. Ok. Adesso c'è barro che sei pronta? No. Aspetta. Non so se può uscire. No. Gente. Ok. Mi devo trovare in sintonia con i tasti. Ah posso volare. Prova a uscire. Forse. Forse puoi uscire. No. Non si alve. Tu non tolpe. Perché già ha ammazzato Toroto. Parla con Toroto morta. Scusi. Scusi da. Baby. Ti tiri in avanti le cucci. No. Ah no. Non ho l'incorso di Grace. Farai in via non serve a niente. Lo sai. Non so in culo. Bene sei pronta mentalmente? No. Ce la puoi fare. Dai nel caso interverrò io quando hai uno di vita. Oh cazzo. Ho sentito. Neh. Sta arrivando barro che il tuo peggior nemico. Gio di puttana. C'è Misery. Oh bello. Non ha il naso Misery. Nella suoralla di Voldemort. Nella texture ce l'ha il naso. C'è un puntino. C'è un pixel. Neh. Ti attiva di una bolla. Ok allora Sara. Un consiglio. Quando vedi che sta correndo verso di te salta. Salta. Esatto. Salta. Ok. Se la posso fare. Amore aspetta. Oh mio dio. Sai che se gli dici di no forse non lo combatti? Eh? Non sono sicura di correre. Vai. Sì. Ce l'hai fatta. Ok perfetto abbiamo battuto ballro. Hai chiuso con la finestra. Sì. E adesso? Balliamo. Adesso vai. No adesso vai. Puoi sempre. Adesso me lo trovo fuori che mi arriva in faccia. No cazzo è vero. Ha lasciato tutto il segno sulla porta. Guarda. Che brutta persona. Non è una persona ballro. È una valigia. Calcola. Che cazzo di... Ma quanto sta venendo sto video scusate? Ok è venuto tipo di un quarto d'ora. Eh scusa. Sta facendo la pipì. Non distrutiamo. Io direi che adesso entri nella Yamashita Farm. Vai a prendere la life capsule. No vai su Amor. Vai su. Brava. Sto svegliando. Vai salta. Ok. Vai a destra. Adesso hanno appena registrato i miei orgasmi. Non sono orgasmi. Tu dici? Lo so benissimo. Vai avanti. Cazzo. Mindre vai avanti. La fontanella. La fontanella spruzzina. Sto iniziando a parlare come milanesi. Oggi è stata a Milano questa. Quando stavo a Milano andarle a mangiare i picciani. Vai buttati nell'acqua. Figlia di la life capsule. E adesso che cazzo faccio? E adesso aspetta che la musichina finisca. Ok. Perché non la sento neanche. Posso salire qui? Sì. E adesso posso ricadere? No adesso devi salire già sempre. Devi buttare. Oh stavo salendo. Stavo salendo. Stavo tipo a finire nell'acqua sempre. Sei una medusa di i papini dell'acqua. No io seriamente non so notare. Lei non sa notare ed è una medusa. È sempre un medusa. Non è che cambia quando vai avanti e ci torni. È sempre un pozzetto spruzzino. Basta basta. Che cazzo sei? È un minuto. Perché non serve assolutamente niente. Ma se ci parlo? Questo è un farmware go... Mi mica. Amore vai nel cimitero. Ci sono i funghetti. Funghetti. Va bene. Dai. Perché vestita tutta di rosa stazzo qua? Perché mi piace rosa. Posso salire? No. Non è il jetpack 2.0. 3.456. Allora quel posto lì non serve assolutamente al cazzo. C'è Jack. Tira gritta c'è Jack. Fallo levare delle palle. Eh vatti. Cosa? Quello lì sembra sempre... Cioè nelle miniature sembra sempre che se lo sta prendendo nel culo. Cazzo ridi? Non posso ridere? No. Il gioco è mio. Ti posso buttare fuori quando vuoi. Tanto non lo farai. Non lo farò lo so. Ci sono i funghetti. Ti ammazza Jeffrey Tiller. Amore non ti farei ammatti. Cosa? Scusatemi. Non ci posso credere. Mi sembrava figo. Ok torniamo dall'inizio. Poi allora... Dobbiamo fare a battere balrog. Sì. Stiamo scherzando. Vai a prendere la mappa. Eh? Cosa? La mappa. Le mappe ce le ho in borsa. Sì le mappe. Sì. Non quelle le mappe. Ah ok. È una mappa digitale. Digitale. Cazzo devo rifare la réservoir. La réservoir. La réservoir. Bene adesso ci mettiamo altri. Non ci posso credere. Sì come si dice formaggio in francese. Carcadmio. Putta di prendere quella merda. Sara. Chi a sinistra. Ok scusi. Ok. Adesso tira dritto se non devi. Ok. Ho visto che il 69 di aria è rimasto. Ma chissà mai perché il 69. Mi sa che un pesce di merda. Ma l'hai lasciato vivo. Sì. Corri. Corri. Non ne devi strada. Miau. Miau. Mi ribattere male lo che lo sai. Non tanto non lo batto padre. Ah già è vero. Che cazzo ti ha detto. Vai prendere il map system. Dov'è? È inattimo. No adesso salgo. Ok. Ma quello sfigato lì sempre deve fare la pipì. Sta pagando. Che giifo. Dove dove devo andare? Dove ci sono le catene. Le catene. Le catene. Le catene. Le catene. Le catene. No. Andiamo a battere. No. No addio santo. Puccuna. No addio figa. Non può saltare in fronte e ci spugli come Gabri. Sta da occola. Non ti avrei mai chiesto la spiega mia. Allora. Noi. What up. Devi solo schippare i dialoghi fino a quando ti chiede se vuoi combatterlo. Ok. Sai così. Sta male. È quasi mezzanotte. Sì. Se faccio casino. Mi sa che hai meno. Attento. Deve ancora apparire. Ok. Ah. Ah. Mi fai male. Mi fai male. Misery. Vuoi fare un po' di fischi? Ah. Non facciamo un leo. Misery. Vuoi fare un po' di fischi? È mezzanotte. Non facciamo un leo. È mezzanotte. È mezzanotte. Bolla. Hai visto la faccia di bambini di Toroco. Anche Toroco nei dialoghi sembra che fa la cacca. Dai, va avanti. Non abbiamo fumato niente. Ma la giochiamo. No, dai fumati una sigaretta. Vai, coglione. Dai, uccidiamolo. Ti ammazza. Ti stupere. Ti sei fottuta. Hai uno di vita? Sono stupida di giocare. Che mossa. Ora ti ingloba, guarda. Hai inglobato. Gioca. Ok. Ti stupi. Allora. Stupi. Minchia, ma che testolina piccolai? Allora. Direi che... Sara non ha più voglia di giocare. No, Sara è bravissima, però si sta contenendo. Perché vuole fare scene. E adesso mi sta lanciando la roba. E... Cosa cazzo mi è... Non c'è una mia. No. Le mutandine di Curly. Sono calze. Sono calze. Si, sono calze. Ok, allora. Sara, vieni... Non c'è, non c'è. Non c'è, non c'è. Vieni qua che salutiamo. Ok. Che cazzo è quale? Allora. Dai, vieni qua. Vieni qui. Andiamo. Dai, facciamo un saluto carino. Vieni. Tuffati. Siediti. Ah, porco. Allora. Sente, maestro. Sara è... You have died. Sono felice. Sara è morta. Quindi direi che la parte si può fermare qua. Direi che abbiamo fatto abbastanza nella Curly Story. Vi sarete annoiati perché io non so giocare. No, si sono divertiti molto di più del Let's Play. Sì, sì. No. Con questo video ci vale avere qualcosa da domani. Ma stai zitta che sei te quella. No, è vero. E quindi fermiamo qua la parte. E... Alla prossima parte. E viva la figa. Sì, sempre. Ciao a tutti.